L'Assemblea Generale di oggi della Francigena qui a Bari è stato un momento molto importante, direi quasi potremmo utilizzare anche un termine più pesante, insomma senza arrivare a storico, però quasi, perché la via Francigena ha cambiato pelle. Era semplicemente la via di Sigerico da Canterbury a Roma e oggi è diventata la via per Roma, la via per Gerusalemme, la via per Santiago di Compostela, quindi abbiamo un allargamento geografico dai 2000 km di prima, diventiamo tre, ma soprattutto guardiamo in varie direzioni, dove la Puglia assume un ruolo baricentrico importante, quindi è una responsabilità grossa, ma anche una nostra responsabilità. Noi con questa azione pensiamo di rendere più attrattiva, più importante la via Francigena, quindi non ci sarà meno gente che viene, ma ci sarà più gente che viene perché siamo in questo quadro più ampio. Unisce di più l'Europa questa nostra azione e quindi va assolutamente approvata. La Puglia e il Mezzogiorno si ricongiungono all'Europa grazie alla via Francigena. Non voglio esagerare, ma stiamo parlando di un momento importante di riscatto del Mezzogiorno, di un Mezzogiorno diverso che non si piange addosso, che si rimbocca le maniche, che fa il suo dovere, che si impegna in una logica condivisa con le altre regioni del Sud e con le altre regioni della Francigena, del Nord Italia e del Nord Europa. Questa è la vera sfida. Noi siamo il terminale di un sistema che non si va ad aggiungere o giustapporre, ma va a completare un'operazione che troverà valore aggiunto in questo riconoscimento, in questo passaggio ulteriore, che ci consentirà di presentarci al Consiglio d'Europa con una unità di intenti, di forze e di anime, per certi versi, che viaggiano tutte nella stessa direzione e che, se mi permettete, va nella direzione di evitare l'isolamento del Sud. Ci siamo detti tante volte che l'Italia riparte se si risolve la questione meridionale. In qualche modo la Francigena rappresenta un modello, una strada, un indicatore da questo punto di vista. Il ricongiungimento a un Sud che, se si mette in marcia, se si mette in cammino, consente all'intero Paese di rimettersi in cammino in Europa e consente anche di restituire all'Europa quel senso di identità, di fraternità, di comunità che gli eventi che stiamo attraversando sembrano invece voler rompere e che invece, al fondo, ritornando alle origini, ritornando alle radici, ha un senso talmente profondo e talmente unitario che alternative non ce ne sono. Il tutto, come abbiamo detto, dove l'Euca, il Finibus Terre, è fisicamente, geograficamente, la fine di un continente, ma è la ricongiunzione di questo continente a Gerusalemme, al Nord Africa, attraverso il Mediterraneo, a cui, attraverso la Francigena da Canterbury all'Euca, vogliamo restituire quel senso, quel ruolo di culla della civiltà e della spiritualità che probabilmente ha smarrito negli ultimi anni. 900 chilometri di percorso, oltre 150 comuni, un itinerario che da Roma arriva a Santa Maria di Leuca, un percorso straordinariamente bello. 900 chilometri che si aggiungono agli altri 2.000 che già componevano la via Francigena e che attraversano cinque regioni del sud, quindi uscendo da Roma, dal Parco Nazionale della Pia Antica, attraversando poi l'Appennino, si giunge alla piana del Tavoliere delle Puglie per poi raggiungere la costa. E di qui, attraverso gli imbarchi della Terra Santa, la nostra Finibus Terre. Un lavoro enorme fatto, insomma, coordinando cinque regioni con le squadre sul campo che hanno ripercorso questo tracciato metro per metro, l'hanno geolocalizzato, hanno già individuato elementi positivi ed eventuali criticità che ci ingeremo quindi ad affrontare nei prossimi sei mesi.